Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi martedì 12 gennaio 2021 canale 17 di Fano tv questa è occhio ai giornali che comincia con il santo del giorno il santo di oggi lo vediamo subito è san bernardo da corleone il sole sorgerà le 7 44 e tramonterà le 16 e 54 minuti uno sguardo al tempo anche per oggi diciamo che le precipitazioni sono finite ci sono soltanto adesso condizioni di tempo variabile attenzione però alle gelate diffuse sia oggi che nella giornata di domani mercoledì così come giovedì ma anche le giovedì in realtà le temperature minime della notte sono in aumento quindi le gelate sono escluse poi c'è un po di cambiamento ma lo vedremo nel corso delle prossime giornate perché come chi ha seguito il nostro telegiornale ieri sera alle 20.30 insomma avremo delle repliche anche nella giornata nella mattinata di questa mattina fino alle 13 e 50 l'ultima edizione in replica del telegiornale avrà sentito anche l'intervento del nostro meteorologo che è Francesco Cangiotti di Geometeo.it che diceva che probabilmente il tempo cambierà nel fine settimana potrebbe arrivare qualche fiocco di neve fin sulla costa ma senza esagerare è giusto così tanto per allora anche per tirarsi su un po di buon umore poi la neve sono d'accordo ebbene sta bene sui monti il resto sulle montagne per il resto crea soltanto disagi anche se è bella allora rissa furiosa in aula volano le sedie titolo d'apertura del Carlino di Pesaro questa è la notizia di cronaca è successo nella ex media di via Confalonieri cinque ragazzi litigano su chi invitare a pranzo la nuova docente rimasta ferita contusa al via l'operazione scuole sicure la fotonotizia la rientro Pesaro fra i tamponi agli studenti delle superiori e poi sempre dalla prima del Carlino torna l'incubo bomba a Fano ma stavolta l'ordigno viene subito rimosso Fano che ricorda ancora il precedente quello del 2018 quando ci fu quella evacuazione di massa che è rimasta e rimarrà nella storia poi la vendita del San Domenico al comune di Pesaro 800 mila euro poi la storia di una coppia di ferro Luciano e Battista 70 anni insieme e ora lottano contro il virus a Urbino l'assessore Salta Martini anzi l'assessore del comune di Urbino Elisabetta Foschi dopo il focolaio all'ospedale dice entro breve riapriremo cardiologia e rianimazione sotto invece un po' di ossigeno per i locali bar e ristoranti in giallo ripartono le prenotazioni e poi da Sant'Angelo in vado ecco come rinascerà la domus del mito andiamo a vedere adesso il Corriere Adriatico sempre l'edizione di Pesaro scuole 10 mila da mappare il comune avanti con lo screening per studenti e docenti ospedale di Urbino invece trasferiti 6 pazienti su 15 conferenze a Stato-Regioni divisa sul nuovo DPCM Acquaroli dice misure chiare la zona rossa non è bastata centropagina la fotonotizia di oggi è tutta per la bomba trovata sotto il ponte dell'Arzilla a Fano l'ordigno è stato subito rimosso dalla Regione la dirigente del Consiglio sostituita con una email cambio al vertice in Consiglio regionale e Antonio Russi il nuovo segretario regionale già dalla seduta di oggi non sarà Maria Rosa Zampa da occupare lo scranno a sinistra del Presidente Dino Latini poi in breve sempre da Pesaro e rissa alla scuola per stranieri botte per un invito a cena e poi sicurezza urbana la polizia locale potenzia i compiti e a Fano in fuga lungo i binari arrestato il pusher pendolare dell'eroina poi di taglio basso vogliamo donare la dose di vaccino ai nostri nipotini la provocazione di due nonni che abitano a Milano Adriana Zandri e Luigi Eusepi lei insegnante d'inglese e lui laureato in matematica è una vita trascorsa in banca sono due marchigiani vogliamo donare le nostre dosi di vaccino ai nostri nipoti poi c'è un'intervista sempre sul Corriere di questa mattina l'intervista al nuovo Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Panichi il mio obiettivo è far ripartire l'eccellenza e allora cominciamo subito a toglierci qualche dente di quelli che fanno male perché sul Carlino di Pesaro di questa mattina c'è una notizia che riguarda ovviamente il Covid e insomma una bozza di quello che sarà il nuovo piano sanitario che già fa un po' discutere soprattutto su una questione di tipo etico nell'emergenza cure solo a chi si può salvare a chi può salvarsi ecco il nuovo piano contro le pandemie se le risorse saranno insufficienti terapie intensive ai pazienti che potranno trarre maggiore benefici il Ministero della Salute però tiene a precisare che al momento si tratta solo di una bozza ma è anche un fatto scontato se vogliamo e che in particolari, anche se poi tutti lo negano ma in particolari emergenze come quella dell'inizio di questa pandemia lo abbiamo visto insomma qualcuno a denti stretti lo ha ammesso che purtroppo quando arrivano tanti pazienti per forza di cose non ci sono posti letto non ci sono terapie intensive disponibili quindi vale la legge del più forte chi ha più chance di vivere viene curato gli altri si fa un segno di croce se i servizi sanitari inizia così l'articolo di Alessandro Farruggia questa mattina sul Carlino se i servizi sanitari fossero travolti dalla pandemia e non ci fossero posti letto di terapia intensiva per tutti e qui apriamo subito la parentesi lo scenario potrebbe di nuovo ripetersi anche se siamo preparati anche se siamo un po' più sgamati e navigati lo scenario potrebbe ripetersi perché sta arrivando questa terza ondata è brutto da dire ma i dati delle prossime giornate dei prossimi giorni non saranno affatto buoni e allora incorciamo le dita andiamo avanti a leggere il giornale dicevo se i posti letto di terapia intensiva per tutti potrebbero non bastare qui potrebbero essere privilegiati i pazienti con più probabilità di sopravvivere i più giovani quelli con meno patologie croniche a sostenerlo è una bozza del piano pandemico 2021-2023 non è consentito ovviamente agire violando gli standard dell'etica e della deontologia ma può essere necessario per esempio privilegiare il principio di beneficialità ora in questa direzione cioè la direzione di un triage a danno dei pazienti con meno probabilità di sopravvivere si erano mossi già nei mesi scorsi anche paesi come la Gran Bretagna e la Svezia attenzione una direttiva del 17 marzo rivolta agli ospedali dell'area di Stoccolma ha stabilito che i pazienti di età superiore a 80 anni o con un indice di massa corporea superiore a 40 non avrebbero dovuto essere ammessi in terapia intensiva perché avrebbero meno probabilità di riprendersi da notare tra l'altro che la maggior parte delle residenze sanitarie assistenziali svedesi non erano attrezzate per somministrare ossigeno così che a molti ospite è stata somministrata solo morfina per alleviare le loro sofferenze questo è bene anche ricordarcelo anche per tutti quelli che spesso si lamentano della nostra sanità invece sul fronte delle regole che è un altro fronte importante che spesso ha esasperato soprattutto in questa seconda fase dopo l'estate ha esasperato gli animi delle persone la prima volta e la prima botta è stata una novità per tutti quindi abbiamo sopportato la gente si è messa nell'ordine di idee di fare la persona disciplinata eccetera eccetera oggi in realtà questa cosa l'abbiamo già detta vista non è più così la gente è molto insofferente difficilmente digerisce ad ogni DPCM che Conte ci spiega in televisione o sui social cresce l'insofferenza cresce il malumore e allora ne sta per arrivare un altro che sarà in vigore dal 16 di gennaio e ci sono già alcune indicazioni che è bene andare a vedere allora intanto è importante dire che salta il weekend arancione uguale per tutti e questa secondo me potrebbe essere anche una cosa positiva il Premier però vede nero in che senso? perché si va verso i contagi un aumento un boom di contagi molto elevato il nuovo DPCM sarà in vigore dal prossimo 16 gennaio confermato il giro di vite anti Movida sui bar niente asporto dopo le 18 e qui potrebbe sembrare di primo acchito leggendo un po' così una sorta di accanimento nei confronti di questa categoria però se andiamo a vedere e le immagini dei telegiornali nazionali nelle ultime ore ci hanno dimostrato che effettivamente è così ci sono i famosi furbetti quelli per cui apparivano i cartelli una volta che per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno ora per colpa di qualche fuori di testa che cosa succede? e li abbiamo visti con i nostri occhi attraverso le immagini si organizzano per fare aperitivi fuori dai locali dove si fa dalle 18 in poi soltanto l'asporto quindi entrano nei bar prendono quello che devono prendere poi vanno fuori e nelle vicinanze creano assembramento abbiamo visto scene da fuori di testa gente che si è messa a ballare basta che uno accende un po' di musica e si metta a ballare come se niente fosse ecco tutti i gesti di una società che evidentemente ha qualche problema e questo purtroppo è il motivo per cui adesso c'è questa stretta questo giro di vite anti-movida naturalmente non tutti i governatori sono d'accordo per esempio Totti della Liguria è contrario ma in questo senso gli risponde Zingaretti il governatore del Lazio che dice a oggi siamo quasi a 80.000 morti e va detto che a fronte del comportamento eroico della maggioranza di persone che ha rispettato le regole fatto sacrificio assunto posizioni irresponsabili molti altri in queste settimane hanno invece in maniera folle praticato comportamenti irresponsabili danneggiando tutti con cene, feste, incontri e furbizie che a mio giudizio dice Zingaretti andrebbero sanzionate con maggiore durezza verissimo non li chiamo furbetti ma vanno puniti per il rispetto che dobbiamo a chi le regole invece le rispetta facendo ovviamente aggiungiamo a noi sacrifici poi c'è invece un'altra notizia importante sempre da questo articolo che porta la firma di Elena Polidori che troverete sul carino di questa mattina è questa l'altra notizia cioè è scartata l'idea dell'incidenza settimanale cioè con il nuovo DPCM decadrà il criterio del rapporto positivi abitanti ossia l'ipotesi di far scattare automaticamente la zona rossa in base all'incidenza cioè quando si superano i 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti il Ministro Speranza ha chiarito che sarà invece mantenuto il modello delle fasce e che sarà confermato l'abbassamento della soglia dell'RT con 1 si va in arancione con 1,5 in zona rossa a rischiare di finire in zona rossa potrebbero essere Lombardia, Calabria e Molise ma abbiamo visto che in realtà anche le marche insomma sono lì lì come si dice e a proposito di marche Acquaroli sulla pagina del carlino di Macerati di questa mattina dice no alla zona rossa automatica ora i cittadini hanno bisogno di chiarezza ma il Presidente al confronto con il Governo dice provvedimenti devono essere comprensibili poi sulla didattica a distanza al 100% per le superiori dice la misura è una misura di prudenza insomma bisogna aspettare ancora non è il caso evidentemente quando dalla politica in questo caso dalla Regione Acquaroli decide di spostare l'apertura delle scuole superiori a febbraio evidentemente tra di loro si dicono cose che ancora noi comuni mortali non sappiamo quindi evidentemente hanno una proiezione dei numeri diversa da quella che possiamo ipotizzare soltanto noi o che vediamo noi in base alle notizie delle ultime 24 ore un conto è dare i numeri del Gores delle ultime 24 ore con i dati in tempo reale un conto è fare le proiezioni le previsioni e qui in questo caso io credo che la Regione Marche abbia dei numeri che noi non abbiamo ancora e quindi ha ragion veduta l'opportunità di non far andare a scuola i ragazzi di farli tornare in queste settimane quando come abbiamo visto una pagina fa Conte vede nero e si aspetta un boom di contagio quindi cominciamo anche a ragionare sulle cose che si dicono perché è bene anche leggere tra le righe le misure devono essere comprensibili poi dice una cosa interessante Acquaroli le misure quelle governative le regole le leggi i dpcm devono essere comprensibili per i cittadini perché è questo importante il rischio qual è è che poi non ci seguano più non ci seguano più e questo poi apre uno scenario del tutto imprevedibile quando il cittadino non segue più la politica e quindi le regole chiaramente nasce il caos Stato, Regioni e Ferri Corti il titolo invece del Corriere di oggi Acquaroli misure chiare la zona rossa non è servita dice poi da Urbino la questione sanitaria trasferiti 6 pazienti su 15 positivi ad oggi contagiati 24 operatori l'ospedale sotto assedio ma il dirigente Cani dice non si rendono necessari interventi straordinari quindi questa è una settimana chiaramente a Urbino difficile ma si va verso il miglioramento in ospedale questo è il Carlino in ospedale sempre a Urbino più sanitari positivi che pazienti Focolai l'assessore Elisabetta Foschi fa il punto e dice al massimo entro la prossima settimana i reparti riapriranno quindi diciamo che ci sono tra virgolette buone notizie perché quanto accaduto all'ospedale il contagio di 9 sanitari in rianimazione e 13 in cardiologia è certamente un fatto del tutto eccezionale inaspettato questo sicuramente imprevedibile nella dinamica e di complicata gestione nel venirne fuori ma con un cauto ottimismo possiamo dire che tra la fine di questa settimana e la prossima lo scenario sarà diverso da quello attuale dice Elisabetta Foschi che vedete in questa foto tra l'altro l'arrivo di rinforzi sbloccherebbe la chirurgia dove ora si fanno solo le urgenze a Cartoceto invece per quanto riguarda i tamponi rapidi quelli veloci antigenici Cartoceto tira la volata e batte subito un record sono 3.657 le persone che hanno approfittato di questa occasione intanto la fotografia del Carlino di oggi è per il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi che si sottopone appunto al tampone è il numero più alto registrato dalla via dell'operazione Marche Sicure trovati 17 positivi asintomatici solo per oggi prosegue il presidio alla tagliata che serve appunto per i residenti dei comuni di Cartoceto e di Monbaroccio poi vaccini nell'RSA di Mondavio e Mondolfo a giorni saremo pronti a partire con gli ospiti gli operatori già quasi tutti immunizzati mentre a Fano alcuni istituti giocano d'anticipo parliamo di scuole e gli alunni sono stati invitati a farsi l'antigenico rapido la mossa del Polo 3 coinvolge praticamente tre classi la preside Augello dice abbiamo mandato una circolare per avvertire le famiglie il sindaco Seri però non si sbilancia tampone a tutti sì ma solo se con cadenza periodica decisioni da prendere con cautela chiaro qui andrebbe fatto adesso me ne vogliano gli studenti ma insomma un po' come succede per alcune categorie tipo gli sportivi che fanno addirittura tamponi anche due volte alla settimana quel cotton fioc infilato nel naso lo fanno almeno due volte alla settimana se vogliono giocare le partite regolarmente nel campionato quindi e ci sono anche altre categorie che per ovvie ragioni lo fanno questo tampone e quindi anche a scuola non so se vale la pena farlo una volta e poi durante l'anno e poi non farlo più però comunque insomma tutto serve il prestite Giombi dice come scuola non abbiamo organizzato uscite ci siamo soltanto limitati a partecipare poi Pesaro invece parte con i tamponi alle superiori a rientro a scuola subito i moduli per aderire la decisione dopo una riunione con il sindaco e con altri il test è volontario Belloni dice l'idea è avere un punto di prelievo in ogni istituto ora fermiamoci un istante perché c'è una notizia adesso che vorrei commentare insieme a voi ed è la notizia che troverete sul resto del Carlino di oggi a pagina 2 dell'inserto della provincia di Pesaro Urbino riguarda le dichiarazioni del presidente dell'ordine dei medici della provincia di Pesaro Urbino il dottor Paolo Maria Battistini che noi tante volte abbiamo conosciuto e abbiamo intervistato sentite che cosa dice Paolo Battistini a proposito del vaccino parliamo del vaccino quindi non i test eccetera il vaccino se così pochi medici lo vogliono ben venga il vaccino obbligatorio ora speravo dice Battistini che non ce ne fosse bisogno ma a questo punto un provvedimento del genere ce lo meritiamo tutto ai colleghi che in questa fase strana dicono di non volersi vaccinare e sconsigliano di vaccinarsi o che al contrario si fanno fotografare mentre si vaccinano il Presidente dei Medici di Pesaresi raccomanda poi di vaccinarsi lo stesso anche se hanno contratto la malattia in primo luogo perché non ci sono controindicazioni se hai già avuto il Covid-19 spiega Battistini in secondo luogo perché è provato che il titolo anticorporale può scendere e l'immunità data dal vaccino è molto più alta rispetto a quella che ha avuto la malattia stessa ora qui ripeto io non mi permetterò mai utilizzando un mezzo televisivo così importante di dire fatelo non fatelo non spetta a me è una scelta personale io mi limito a commentare insieme a voi i giornali al mattino e non a leggerli come si farebbe con un maggiordomo quindi discutiamo quindi ognuno avrà una sua opinione io mi limito semplicemente a sottolineare che l'obbligatorietà è un qualcosa che in uno stato democratico non andrebbe neanche minimamente pensato però fa pensare invece il fatto che ci siano medici quindi che hanno studiato che hanno che fanno questo di mestiere che non vogliono che non vogliono vaccinarsi è come se un pasticcere facesse una bella torta poi la porta ai commensali ma non la mangiasse perché dice perché magari ha usato ingredienti ingredienti innovativi e che non si sa se fanno bene o fanno male ma c'è di più io questa mattina mattina presto perché arrivo qua molto presto per curiosità ho voluto vedere se il presidente o anzi amministratore delegato della Pfizer che ha prodotto il vaccino che lui dice è efficace al 95% si era vaccinato oppure no e ho fatto una ricerca su internet poi magari qualcuno mi smentirà fra qualche minuto essendo più bravo di me magari a trovare queste notizie in rete io ho avuto poco tempo ma quel poco che ho cercato ho scoperto che questo signore qua che adesso vi faccio vedere è l'amministratore delegato della Pfizer colui che ha prodotto il vaccino e che lo sta somministrando a mezzo mondo in realtà ancora non si è vaccinato e questo sarebbe stato invece visto che parliamo di testimoni che tutti devono dare l'esempio eccetera eccetera e lui ancora non si è vaccinato allora vale in maniera molto banale l'idea del pasticciere che dicevo prima o metteteci chi volete voi il titolo di questo che è un articolo del 18 dicembre 2020 in realtà ma ripeto dal 18 dicembre ad oggi non ho visto articoli in questa direzione aggiornati quindi perché non si è ancora vaccinato lui risponde e vi faccio vedere la risposta dice questo signore che ha sviluppato il vaccino lui stesso non si è stato ancora vaccinato il CEO cioè lui ha affermato che non è avvenuto perché non è un operatore sanitario in prima linea ed essendo un uomo di 59 anni con una salute relativamente buona non è del tutto appropriato per lui ricevere il vaccino prima di altre persone che non ne hanno più bisogno ora detta così chiaramente diceva bravo tutto perfetto e quindi non gli si può dire niente in realtà uno che ce l'ha dentro casa il vaccino se ha voglia e ha paura se lo fa fare in 8 secondi e ci crede e poi ci può raccontare qualsiasi cosa detto questo detto questo sono considerazioni che facciamo al momento io vi lancio questa sfida se trovate un articolo in cui c'è una fotografia che dimostra che questa persona si è fatto il vaccino bene questo per dire e chiudo questa questa filippica che prima di rendere obbligatorio un vaccino insomma bisogna pensarci su poi è vero che il Papa ha detto che eticamente è una cosa che dobbiamo fare tutti eccetera eccetera però anche qui senza voler dibattere al Santo Padre però un conto è dirlo quando uno ha 80 anni e se poi le cose si complicano fra dieci anni chi si è visto si è visto è un conto è somministrarlo a uno che ha 40 anni e che ancora insomma avrebbe una vita davanti per farlo anche perché torno a ripetere il problema di questo super vaccino veloce nel test nei test e quant'altro non sappiamo quali saranno gli effetti a lunga durata e qui nessuno può dire niente perché effettivamente non è stato ancora i tempi sono questi non è stato testato per tanto tempo quindi ecco quello che succederà fra dieci anni tutti dicono che non succederà niente ma nessuno può dimostrarlo scientificamente e questo è il problema ognuno poi faccia e tragga le sue conclusioni intanto cinque positivi al tampone di massa al palace qui siamo su Senigallia oltre 2400 persone quelle testate nella prima giornata organizzata dalla protezione civile e dalla croce rossa di cui 1800 a Senigallia e poi sotto invece i lavori sul Misa procedono spediti grazie alla cooperativa sociale mentre lo stop and go snerva baristi e ristoratori siamo esasperati dicono loro ritorno del caffè caldo al balcone al bancone insieme ad una brioche fa felici clienti ma la situazione a singhiozzo rende sempre più difficoltoso andare avanti mentre i mille saturimetri gratis in farmacia arriveranno anche nei piccoli paesi il vice presidente di Federfarma dice garanteremo una distribuzione capillare sapete che i saturimetri che vedete in questa fotografia qua eccolo lì serve per monitorare l'ossigeno nel sangue se si scende sotto una certa soglia chiaramente lì deve scattare l'allarme ora parliamo invece di Confindustria Ancone Pesaro ai saluti la parola alle assemblee Marche Nord agli sgoccioli in arrivo la ratifica del Consiglio Generale e Territoriale centro Adriatico alla finestra per la strana fusione tra capoluogo Ascoli e Fermo ma il resto del Carlino poi forse lo vedremo se abbiamo tempo sulla questione di Confindustria insomma dice è arrivato un dictat da Roma a Confindustria di Pesaro e Ancona di non parlare con i giornalisti Ordigno sotto il ponte dell'Arzilla la pagina di Fano subito rimosso sarà fatto brillare rinvenuto durante gli scavi di Aset all'altezza della statale 16 bomba d'aereo di fabbricazione italiana bomba sotto il ponte titolo del Carlino di Fano pericolo scampato mattinata frenetica all'Arzilla dove il ritrovamento di Nordigno ha fatto rivivere l'incubo dell'esperienza traumatica del 2018 paura tra i residenti che dicono siamo terrorizzati all'idea di lasciare la nostra la nostra casa il precedente evacuate tre anni fa 23 mila persone e ce lo ricordiamo ce lo ricordiamo benissimo nuova variante di Gimarra non si perdono i 20 milioni Sir Filippi ribadisce che la regione non cambierà idea sulla viabilità verso Nord mentre sul commercio poche cose ma da fare subito sanatoria imposte ristori e credito agevolato Arzeni e la situazione delle imprese tenta di sfuggire di fuggire sui binari preso il pusher lo spacciatore pendolare la polizia resta in stazione un 25enne sequestrate tre dosi di eroina segnalati anche i clienti poi la vasca al Lido al Lido di Fano tutto pronto ma non si parte il problema del casottino un incontro con i dirigenti Enel per aggirare l'ostacolo nel sottopasso della stazione c'era il market dell'oroina a titolo del resto del Carlino poi alle terme di Carignano questa è l'altra notizia interessante faremo un hotel a 5 stelle i progetti del gruppo Romani che ha acquistato tutta l'area delle terme di Carignano poi dice l'avvocato Maurizio Natali abbiamo già incontrato l'assessore Aguzzi presto vedremo anche il sindaco di Fano Massimo Seri a Pesero fondazione San Domenico alle ore contate manca solo l'ok della sovrintendenza poi l'immobile sarà ceduto al comune per 800 mila euro grazie per averci seguito stasera l'appuntamento alle 20.30 con il nostro telegiornale buona giornata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.